eppure caro Aldo veramente soddisperato credo che mia moglie Alessandra abbia perso proprio le trombe di Eustacchio si è diventata sorda completamente Aldo ogni bada caro non risponde mai dimmi una cosa tu che hai studiato medicina per poco non sei diventato medico ti mancavano pochi esami dimmi ma saranno consigli riguardo a questo fatto della sordità di mogliere ma certamente tu per stabilire il grado di sordità devi fare un test diciamo fai delle prove si la chiami a una certa distanza per esempio a 10 metri le fai una domanda e perché se che le rispondi se non rispondi ti avvicina a 5 metri e le ripeti la domanda se non ti risponde ancora a 2 metri le ripeti la domanda e vai avanti così finché non ti rispondo ah ci capite e ora cosa faccio e stabilisco il grado di sordità Alessandra che si mangia niente da fare Alessandra che si mangia sorda completamente adesso che si mangia e ste patate la g!t 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 g